Il presidente palestinese Abu Mazen è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco per quello che è il sesto incontro tra i due dopo l'incontro di preghiera del 17 ottobre 2013 insieme al presidente israeliano Shimon Peres. Per il Papa bisogna fare ogni sforzo per riattivare il dialogo con Israele e giungere ad una soluzione basata sul principio dei due stati. Bergoglio e Mazen si sono detti d'accordo sul fatto che Gerusalemme debba preservare l'identità di città santa per tutte e tre le religioni che discendono da Abramo anche attraverso uno speciale status garantito a livello internazionale. Ieri il presidente dell'ANP era stato a colloquio per un'ora col presidente del Consiglio italiano Mario Draghi il quale ha auspicato la ripresa delle discussioni per una soluzione a due stati. In precedenza al Quirinale Abu Mazen aveva ringraziato il presidente Mattarella per l'assistenza umanitaria verso la Palestina e per il supporto italiano nelle azioni di lotta alla pandemia da Covid-19.